Tutto secondo previsioni anche nella provincia Barletta-Andrea Trani per le primarie del Partito Democratico. La segreteria nazionale del PD passa dunque nelle mani del sindaco di Firenze Matteo Renzi e in tutti i comuni della sesta provincia pugliese il dato viene rispettato senza grosse differenze percentuali. Eletti anche i cinque delegati all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Sono tre della lista a sostegno di Matteo Renzi, Filippo Caracciolo di Barletta, Maria Andriano Trinitapoli, Fabrizio Ferranti di Trani e due della lista a sostegno di Cuperlo, Ruggero Mennea Barletta e Angela Tempesta Minervino Murge. Per quanto riguarda i risultati di Puglia, Renzi ha raggiunto il 58,2%, Cuperlo il 25,9%, Civati il 15,9%. Per quanto riguarda invece la provincia Barletta-Andrea Trani, Renzi 63,5%, Cuperlo 29%, Civati 7,5%. Per quanto riguarda invece i risultati dei tre candidati alla segretaria nazionale città per città nella sesta provincia pugliese, Renzi sbanca ad Andria, a Barletta, a Biceglie, a Canosa, a Minervino, a Spinazzola, a Trani e a Trinitapoli. Cuperlo invece supera di misura gli altri due concorrenti a Margherita di Savoia e a San Ferdinando di Puglia.